Ciao a tutti, benvenuti in un nuovo video interattivo, benvenuti e bentornati sul mio canale. Oggi andremo a fare un video che ha come titolo cosa sta per fare, cioè quali saranno i movimenti, quali saranno le intenzioni di una persona, di una situazione, di un avvenimento che voi avete in mente in questo momento. Ricordo che per comodità io parlo al femminile, ma il video è adatto a tutti coloro che lo stanno guardando e ricordo pure che il video è un interattivo, perciò è valido dal momento in cui lo andate a cliccare per vederlo, è valido per il momento in cui lo andate a vedere. Ricordo pure che essendo interattive ed essendo visto da tante persone, voi in base alla variante che andate a scegliere e comunque potete anche ascoltare tutte e due le varianti perché dovete prendere semplicemente quello che risuona con la vostra situazione, che sia una situazione che può riferirsi al settore lavorativo, settore sentimentale, settore familiare o di amicizia, ma relativo a qualcosa che voi sentite che risuona con la vostra vita, con la persona o con la situazione. Tutto il resto lasciatelo andare perché quello che non va bene per voi sicuramente combacerà perfettamente con qualche altro che andrà a vedere il video o che lo sta vedendo. Oggi faremo semplicemente due varianti, cominciamo subito con la variante numero 1, contrassegnata con il numero 4 per tutte le ragazze che hanno scelto il numero 4. Andiamo a vedere innanzitutto qual è la situazione attuale per la variante numero 1. vediamo un po' che situazione abbiamo con la variante 1. Allora qui abbiamo qualcuno o una situazione perché la variante può essere intesa o riferito a delle persone o riferito a una situazione. Abbiamo una situazione qui di una fiducia che viene messa in discussione, una fiducia che è stata messa in discussione, una fiducia che è stata messa un pochettino in difficoltà e in questo momento ci vuole un chiarimento, ci vuole un chiarimento per capire, per definire se questa fiducia è ben riposta oppure se è stata una fiducia riposta male e diciamo e c'è stato un inganno, siete state ingannate o siete state diciamo... non mi piace la parola prese in giro però in questo momento non mi viene altro da dire. Sicuramente qui abbiamo un... sicuramente voi avevate riposto fiducia in un qualcosa, in qualcuno, in una situazione di cui eravate... di cui vi fidavate oltretutto però adesso sono subentrate delle difficoltà. Queste difficoltà mettono appunto in discussione la fiducia che avevate riposto e adesso avete bisogno proprio di un chiarimento. O non siete voi ma è qualcuno verso di voi. Andiamo a vedere che tipo di persona è legata a questa variante. Vediamo un po' che tipo di persona è legata a questa variante. appunto qui abbiamo abbiamo un qualcuno che veramente aveva riposto tanto in questa situazione veramente aveva riposto tanto in questa in questa persona cioè si era veramente aggrappata si era veramente unita a livello potrebbe essere anche a livello proprio inconscio a livello proprio dell'anima si erano aggrappati uno con l'altro però adesso c'è un tentennamento di uno dei due e c'è questa forma di riflessione questa forma di di ripensamento legata sicuramente a questa fiducia che non riesce più a sfociare come prima non riesce più a essere salda come era prima allora quello che mi viene da dire è anche che qui ci potrebbe anche essere in alcuni casi l'intromissione di una terza persona potrebbe dico però diciamo che per lo più sono appunto le due persone interessate che hanno una difficoltà in questo momento a livello emotivo sentimentale vediamo cosa ci dicono gli angeli del cuore questo si può riferire a persone legate sentimentalmente ma anche legate a livello di amicizia o di famiglia allora vediamo un po' conversazioni sincere relazioni delle vite passate allora conversazioni sincere qua c'è bisogno di parlare con sincerità qua sicuramente è successo qualcosa è successo qualcosa oppure è venuto fuori qualcosa del passato di uno dei due protagonisti di questa vicenda che sicuramente ha appunto messo in in dubbio quello che si era instaurato c'è bisogno di appunto chiarimento e conversazioni sincere tutte e due le carte si abbinano perfettamente qui c'è bisogno di un chiarimento ma non di un chiarimento a livello dobbiamo parlare qui c'è proprio bisogno di un chiarimento però a livello proprio di essere sinceri uno con l'altro non si può semplicemente parlare ma qui bisogna spudare il rospo allora andiamo a vedere cosa ci dice la stesa con i tarocchi qua la situazione era una situazione che andava benissimo allora qui quello che posso vedere io è che appunto qui c'era una situazione che stava andando bene stava andando bene e si stavano per definire e delineare dei anche a livello futuristico qua c'era un qualcosa legato proprio a livello di amicizie di sentimenti chiamatelo come volete c'era un qualcosa che stava andando proprio per il verso giusto però qui poi c'è stata una trasformazione c'è stato un qualcosa che è cambiato è cambiato proprio l'atteggiamento è cambiato proprio il modo di fare il modo di pensare di quelle delle persone che sono interessate o della situazione in generale qui quello che mi viene da dire è appunto che c'era la massima soddisfazione nella situazione che si stava per per delineare e appunto c'era il era il momento adatto per cogliere i frutti di tutto quello che si era seminato però qualcosa è cambiato qualcosa è cambiato in questa situazione ed è cambiato in modo molto repentino qui quello che che vedo è che c'è già un personaggio abbastanza importante qui abbiamo un re di coppe che è un re abbastanza è una persona abbastanza matura potrebbe essere il marito il padre potrebbe essere l'uomo della vostra vita che diciamo è una persona abbastanza saggia e responsabile che vi potrebbe essere di aiuto abbiamo anche come origine del problema un qualcuno che si è intromesso in questa situazione un qualcuno di non tanto pericoloso però che ha insinuato il dubbio ha insinuato il dubbio e appunto ha creato in questa storia una forma di insoddisfazione che ha messo in dubbio il lavoro che si stava facendo cioè ha messo in dubbio tutto quello che era diciamo l'approssimarsi dell'eventualità che questa storia o questa situazione potesse progredire in modo molto scorrevole e molto duraturo appunto questo personaggio che si è intromesso non è tanto pericoloso ma è stato abbastanza pericoloso da mettere appunto in dubbio e da farvi sentire questa forma di o da fargli sentire questa forma di insoddisfazione che diciamo appunto ha messo in in dubbio la fiducia della situazione o del rapporto e adesso ci vogliono dei chiarimenti perché senza questi chiarimenti la situazione non potrà continuare non potrà andare avanti ecco quello che diciamo è stato il clou della situazione è che dopo tanto sacrificio dopo tanto lavoro dopo tante lotte non ci voleva questo stop non ci voleva questa questa situazione di di fermo ma qua le carte mi parlano appunto che questa questa forma di di dubbio che si è insinuata nella situazione questa forma di dubbio che si è insinuata in questa situazione ha messo fine a una possibile stabilità perché qua mi parla appunto di una stabilità che poteva essere qualcosa di veramente concreto e invece qui il nostro bel re di coppe ha deciso bene di o deciderà perché è una cosa che è stata oppure sarà a breve questo re di coppe che è il protagonista diciamo di questa stesa deciderà appunto di non di non avere più niente a che fare con la situazione o con voi qui c'è qualcosa che proprio sta andando proprio malissimo sta crollando sta distruggendo quello da un minuto all'altro è come se tutto si stesse rivoltando da un minuto all'altro è come se lui o lei non volesse più avere a che fare con quello che stavate creando con quello che stava nascendo e vuole addirittura andare via vuole addirittura lasciare tutto per qualcosa di più importante qualcosa di più concreto appunto ha messo in dubbio cioè questa persona è arrivata ha messo le difficoltà in questa storia in questa situazione poi ha girato i tacchi ed è scomparsa lasciando tutto nelle vostre mani lasciando tutto nella cioè è come si è attirato il sasso ed è scappato via però questa è una situazione che io vedo che è per il finire ragazze mie qua non vedo situazioni che in questo momento possano trovare un compromesso qui vedo che diciamo la persona è ci sono appunto degli spostamenti qua ci sono degli spostamenti il giudizio che questa persona ha dato alla situazione cioè è come se questa persona avesse perso fiducia avesse perso tutta la voglia di continuare questo rapporto con voi di continuare questa relazione questa situazione ha dato un giudizio ferreo e sta appunto decidendo che l'insoddisfazione che prova adesso non è più recuperabile sta pensando appunto di andare di andare via è troppo in come dire è che il discorso è che lui aveva immaginato la situazione in modo diverso da quello che era vi aveva immaginato in un modo diverso aveva immaginato tutta la situazione diversamente e purtroppo quello che mi viene da dire è che appunto è una persona con le idee ben chiare molto intraprendente ed ha in mente nuovi progetti ed ha in mente nuove situazioni da voler chiarire e voler gestire è una persona molto sincera sinceramente ve lo dirà sinceramente vi dirà che questa situazione non va più per lui diciamo che metterà tutto sulla fase dell'inganno e sicuramente lascerà questa forma di insoddisfazione per ricominciare da qualche altra parte perché proprio ha intenzione di andare via ha intenzione di non di non mettersi più in gioco in questa situazione o con voi è proprio determinato ad andare via ad allontanarsi quello che sta per fare è che non solo questa questa situazione sta diciamo cedendo ma sicuramente sta cedendo anche lui vediamo come carta finale e poi vediamo qualche messaggio il potere di fiori trascorri il tempo con i fiori è la loro essenza è la loro essenza per aumentare il tuo potere di guarigione dovete cercare anche voi vacanza la risposta che stai cercando può presentarsi durante una vacanza un ritiro o un viaggio sicuramente lui è talmente deluso da questa situazione che gli è sfuggita di mano o che si è diciamo manifestata in modo diverso da quello che doveva essere che fondamentalmente ha deciso di andare via ecco la carta della vacanza il potere dei fiori sta a significare che lui immagina in un altro in un altro posto di avere una situazione diversa adesso io prenderò delle carte relative ai messaggi dato che indipendentemente che siate uomini o donne questo non ha importanza i messaggi non hanno vanno bene sia per l'uomo sia per la donna perciò in questo momento io le andrò a prendere in modo casuale e vedremo cosa vi direbbe se fosse una persona legata a questa situazione in questo momento vediamo un po' vorrei dirti la mia paura la mia paura è di averti perso vorrei che affrontassimo le difficoltà insieme stai esagerando diciamo che qui la situazione è un po' complicata perché vorrei dirti sì vorrei dirti realmente quello che penso vorrei dirti realmente che la fiducia non ce l'ho più la mia paura è quella di averti perso perché di fondo non prova più quello che provava prima vorrei che affrontassimo insieme le difficoltà nel senso vorrei non aver perso la fiducia in te e vorrei che tutto tornasse come prima in modo da poter affrontare al meglio la situazione e stai esagerando perché magari uno delle due parti sicuramente non dà tanto peso a quello che è successo e perciò dice all'altro stai esagerando tutto si può sistemare ma purtroppo qui la situazione è chiara qui la situazione è appunto che questa persona ha deciso di lasciare tutto di andare per altre vie per altri inizi sicuramente l'insoddisfazione che gli provi il giudizio di insoddisfazione che ha dato dopo l'avvicendarsi di questa di questa persona che chissà cosa gli ha detto chissà cosa avrà fatto per fargli cambiare così tanta idea l'ha portato a una forma di riflessione e giustamente non parlando perché vorrei dirti significa che lui avrebbe intenzione di parlare ma che non lo fa perciò non parlando non cercando un chiarimento lui cosa fa aumenta ancora di più i suoi pensieri negativi su questa situazione e non fa altro che vedere le cose sempre in modo negativo perché non riesce a trovare un punto di confronto non ascoltando le altre le altre versioni perciò sta stabile su quello che lui pensa e su quello che gli è stato detto e perciò di conseguenza penso proprio che questa persona ha già deciso ha già deciso di 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 lasciare andare questa storia e di non chiedere dei chiarimenti di magari anche andare via ecco andare via e chiudere completamente questa situazione perché diciamo che è la delusione più forte di qualsiasi altro pensiero di ascoltare e di diciamo rivangare tutto quello che è successo bene ragazze questa è la vostra variante se vi è piaciuta lasciatemi un commento e se vi va un like e io passo alla variante 2 eccoci con la variante numero 2 andiamo a vedere la situazione attuale delle persone legate ad essa andiamo a vedere cosa c'è e cosa sta per fare una qualsiasi persona a cui voi pensiate in questo momento state pensando concentratevi bella carta gelosia scappare e lacrime allora qui sicuramente abbiamo a che fare con una situazione analoga perché qui abbiamo a che fare con la gelosia lì avevamo la fiducia messa in in dubbio qui abbiamo una vera e propria gelosia una gelosia che potrebbe anche diciamo stimolare nelle persone di questa situazione a scappare perché stanno facendo troppe lacrime le persone legate a questa variante potrebbero essere loro causa di gelosia o potrebbero essere loro le vittime di questa gelosia in entrambi i casi c'è appunto un desiderio di scappar via di andar via perché appunto non si riesce più a sostenere questa sofferenza interna che si ha adesso andiamo a vedere chi sono le persone interessate da questa variante vediamo un po' e sì qui abbiamo a che fare con più persone legate da questa da questo sentimento una delle due però sicuramente in questo momento è propensa appunto all'andare via all'andare via anche se prova dei sentimenti per questa persona anche se prova delle dell'affetto sicuramente hanno passato un bel periodo hanno passato un periodo molto piacevole magari i primi periodi sono quelli diciamo più belli per alcuni però devo dire che qui all'inizio sembrava tutto perfetto invece adesso qui la situazione diciamo non è più gradevole come prima è sicuramente uno dei due personaggi sta appunto cercando di trovare il modo per scappare perché ha troppa sofferenza legata a questa gelosia certe volte non si è solo vittime della gelosia ma è anche una gelosia che si sente che non riesce più a far andare avanti la coppia andiamo a vedere con le risposte del cuore qui sicuramente c'è qualcosa che nasce perché i bambini diciamo sono sempre sintomo di un qualcosa che nasce di un qualcosa che potrebbe essere anche innocente un qualcosa che potrebbe essere anche immaturo quello che mi viene da dire è che sicuramente qui c'è stato come un fraintendimento in questa storia nel senso che magari qualcosa di innocente qualcosa che non era realmente per come si è visto per come si è raccontato per come si è vissuto si è diciamo immaginato nel modo diverso in cui è andato realmente perché dico questo perché la carta successiva tiene la mente aperta tiene la mente aperta significa che devi cercare di ampliare la tua visione non puoi diciamo vedere due persone che parlano e dire che già se la intendono fra di loro ma cercare di capire che magari stanno scambiando due parole come colleghi come amici come qualcosa del genere questo in questa situazione non c'è stato è scattata subito questa forma di gelosia e una volta che scatta la gelosia tutto ti sembra un dubbio tutto ti sembra un qualcosa fatto alle tue spalle un qualcosa che non come dire diciamo un qualcosa che è riferito sempre al tradimento un qualcosa che è riferito sempre al fatto alle proprie spalle tutte queste situazioni qua tieni la mente aperta sta a significare ascolta prima di giudicare perché io vedo che la coppia prima le persone di questa stesa prima andavano d'accordo adesso è subentrato un qualcosa è successo un qualcosa che ha fatto vacillare questa sicurezza in uno dei due ed ecco una volta che subentra l'insicurezza subentra la gelosia perché parliamoci chiaro che quando si soffre di gelosie è perché si ha un complesso di inferiorità non si è sicuri di se stessi e perciò ci si sente inferiore agli altri andiamo a vedere cosa ci dice la stesa in questo caso vediamo un po' cosa ci dicono i nostri tarocchi vediamo un po' allora vi sistemo meglio le carte così le potete vedere meglio ok perfetto allora quello che mi viene da dire è che ci sono state appunto delle novità ci sono state queste novità che hanno portato a una decisione cioè la situazione nuova che si viene a prospettare in questo momento è una situazione che porta delle novità ma purtroppo non porta delle novità buone in che senso? questa novità che sta per arrivare o che questa persona sta per fare riguarda una decisione riguarda una decisione che purtroppo riguarda la decisione di allontanarsi anche con sacrificio anche con dispiacere ma questa persona sta decidendo appunto di lasciarsi tutto alle spalle per andar via e ricominciare andar via potrebbe essere anche in senso fisico ma potrebbe anche significare andar via da voi diciamo non avere più a che fare con voi quello che vedo è che appunto lui ha bisogno di un rinnovamento lui sente il bisogno di rinnovarsi di rinascita ha bisogno più di un qualcosa dispensierato un qualcosa di più leggero di più distensivo all'origine del problema appunto c'è una questione a due una questione di coppia che sicuramente non è andata per come lui si aspettava per come lui sognava questo lo ha portato a non avere pazienza a non avere pazienza nel capire che cosa è successo nel capire che cosa stesse succedendo in questa situazione perciò diciamo che ha tagliato la testa al toro ha detto che la situazione è così io non voglio saperne più niente ciao e arrivederci questa è la conclusione perché mamma mia perché diciamo che è una di quelle persone che quando vede la cosa in un modo non si fa consigliare non si fa parlare non si fa dire niente lui nella sua mente è stato ingannato basta io voglio troncare tutto sono stato ingannato non è tutto non è come dici tu ma è come ho visto io tu mi hai ingannato mi hai diciamo preso in giro e io adesso non voglio avere più niente a che fare con te questa diciamo che è la decisione che lui va a prendere appunto la decisione che va a prendere è che indubbiamente lui vuole terminare questa situazione vuole terminare questa storia perché ha preso la decisione di vedere il futuro in modo diverso lo vuole vedere diverso perché per lui è stato ingannato lui è stato ingannato poverina questa persona è stata ingannata non è stato preso in considerazione qui c'è stato appunto anche un tentennamento c'è stato un tentennamento perché lui si voleva tenere stretto qualcosa o qualcuno e poi c'è stata una forma di indecisione ha tentato di tenersi stretto il meglio che questa storia gli aveva dato ha tentato di tenere per sé proprio strettamente a sé tutto quello che aveva vissuto con voi in questa situazione tutti i momenti belli però di fondo non è riuscito a trovare in questa situazione il benessere che che aspettava e perciò dato che pensa che questo benessere lo può trovare da qualche altra parte ecco che in questo momento il suo appunto il suo il suo pensiero è quello di di cambiare è quello di cambiare perché è la situazione che è cambiata perciò lui che cosa pensa la situazione è cambiata io non ho più fiducia in quello che c'è stato per me la situazione è andata per come dico io non voglio più avere a che fare con queste situazioni con queste storie con te non eri quello che io mi aspettavo non eri quello che mi aspettavo diciamo che tutta la forza di volontà che potete mettere in questa storia tutta la forza di volontà che potete mettere in questo sogno suo perché questo è un sogno suo che non è riuscito a realizzarsi anche se voi state da sole anche se voi lo fate vedere gli fate vedere che siete una persona diciamo che siete una persona come dire però aspettate aspettate un attimo aspettate un attimo perché qui c'è qualcosa che potrebbe cambiare in vostro favore allora sicuramente la situazione iniziale è molto drastica la situazione iniziale è molto drastica perché è successo un qualcosa nella coppia nella situazione a due e nella situazione che voi avete che lo ha portato a cambiare atteggiamento a cambiare modo di vedere le cose non ha tenuto la mente aperta ha visto che c'è un qualcosa di poco chiaro questo che cosa l'ho portato a fare l'ho portato a decidere di tentare di tenersi stretto quello che aveva vissuto con voi però questo non gli ha dato la felicità che lui sperava perciò ha deciso di prendere questa felicità e di cercarla da un'altra parte il cambiamento che lui sta cercando di ottenere perché lui vuole un cambiamento nella sua vita vuole un cambiamento anche abbastanza repentino per avere una soddisfazione con un'altra persona per trovarsi bene con un'altra persona qui le carte quello che vi consigliano appunto è di metterci se voi tenete ancora questa persona è di metterci tutta la vostra buona volontà per cercare di realizzare diciamo il suo sogno diciamo perché lui vorrebbe una persona casecchiesa ecco più che altro perché lui sogna la famiglia sogna la soddisfazione sogna di avere una persona molto paziente tutte queste cose qua se voi siete disposte a dargli tutto questo se voi siete veramente disposte a dargli tutto questo allora fate in modo di fargli capire che quello che è successo non è quello che lui diciamo ha pensato o ha immaginato però quello c'è sempre un però quello che vi voglio dire è che questa persona anche se si convince in questa situazione alla minima al minimo vostro alzare gli occhi per guardare qualcuno ritornerà sempre a fare queste storie a fare queste discussioni perché purtroppo certi soggetti sono proprio così inverno le risposte alle tue preghiere alle tue affermazioni si realizzeranno pienamente nei mesi invernali e poi compleanno qualcosa può nascere qualcosa può nascere nel prossimo inverno qualcosa può cambiare nei mesi invernali nei mesi freddi perché qua la situazione è lunga da gestire o voi vi fate vedere in un certo modo se avete la pazienza di mettervi lì a farvi vedere in un certo modo di mettervi lì a farvi vedere che siete come questa persona vuole e allora diciamo potrebbe nascere qualcosa ancora con questa persona se realmente ci tenete ma ricordatevi che al minimo al minimo suo sentore che qualcosa non è come dice come dice lui qua si ritorna alla stessa situazione perciò vi metto che siamo in primavera se volete ottenere qualcosa la otterrete nei mesi invernali perciò guardate quanto tempo voi dovete stare a convincere una persona che alla minima situazione analoga ricomincia con le stesse storie io personalmente non lo farei io personalmente lo avrei già mandato a quel paese perché tu non mi credi sono problemi tuoi se hai un complesso di inferiorità non è un problema mio andiamo a vedere ti penso perché lui vi pensa perché lui pensa a tutto quello che poteva avere e che non ha avuto lui pensa a tutti i momenti belli che avete passato insieme lui ci pensa non posso vivere senza di te perché sta male penso tu sia la persona giusta per me siamo fatti l'uno per l'altra allora lui pensa che voi siete la persona ideale però c'è questo però però voi vi dovete comportare sempre come dice lui voi dovete fare sempre come dice lui e voi siete disposti a fare sempre come dice lui nel modo in cui dice lui io personalmente non lo farei io personalmente nasco libera e voglio morire libera non voglio stare tutta la mia vita a fare la buona samaritana per accontentare gli altri qua in una coppia si devono accontentare tutte e due le parti non devo essere sempre io a dare e mai a ricevere perciò quello che vi posso dire è di pensare bene a quello che è la situazione di pensare bene a tutto quello che è successo e di decidere voi quello che è meglio per voi stesse e non pensare sempre agli altri e non pensare sempre a quello che fa stare bene gli altri ma pensiamo ogni tanto anche a noi stesse se dobbiamo scappare mi sa a me che siete voi che dovete scappare da questa situazione non che lui che se ne vuole andare secondo me poi ognuno è libero di fare quello che vuole io quello che vi dico è che se il video vi è piaciuto vi potete lasciare un commento e un like e vi ringrazio per averlo visto fino in fondo se vi va iscrivetevi al canale il mio indirizzo di posta per i consulti lo trovate giù nelle info per chi vuole i numerini all'otto al superenalotto il prossimo video ve li darò ma chi li vuole glieli do io gratuitamente tramite email se mi iscrivete e noi ci vediamo al prossimo video